Una vera occasione per creare opportunità commerciali innovative per le imprese e per approfondire la conoscenza di strumenti tecnici come i crediti documentari, lo smobilizzo delle lettere di credito, lo studio delle garanzie internazionali e dei finanziamenti. La Banca di Credito Cooperativo Mediocrati ha promosso un seminario realizzato con i CREA Banca Impresa utile ad accompagnare le imprese dal territorio nei loro processi di sviluppo internazionale perché per uscire dalla crisi bisogna guardare lontano. Il sistema del CREA Cooperativo, in questo caso la BCC di Mediocrati insieme ai CREA Banca Impresa che è una banca di secondo livello a supporto delle BCC, sono vicine alle aziende, tutte le aziende italiane, in questo caso parliamo di aziende calabresi, che hanno un processo di internazionalizzazione. Che cosa si intende? Il processo di internazionalizzazione si intende hanno interesse oltre a vendere in Italia i loro prodotti ma venderli anche all'estero. In questa misura noi riusciamo a dare qualche supporto finanziario e consulenziale alle aziende che sono interessate, dando sia i finanziamenti diretti a loro oppure finanziando le controparti estere che acquistano i prodotti dalle aziende italiane. Sicuramente la banca, sia noi e sia la banca del movimento del CREA cooperativo, sia adopererà secondo i criteri internazionali per agevolare questa esportazione o importazione, cioè creerà i canali giusti anche con le banche degli altri paesi per le lettere di credito e quant'altro necessaria a fare veicolare questi nostri prodotti che sono anche prodotti di eccellenza in tutti i settori. Grazie a tutti.